Nella polisportiva che continua ad allenarsi, senza sosta e interruzione, arrivano anche altre facce nuove. Nei giorni scorsi, infatti, al posto di Daitano Lisi, ecco un altro preparatore dei portieri. Arriva da Bari a 40 anni e si chiama Beppe Colagliani. Non ci ho pensato tantissimo, sinceramente. C'erano tutte le condizioni per poter lavorare bene e non ho esitato, ho accettato subito l'offerta. L'ultimo arrivato ha esperienza decennale con il Roll T per uomini e per la prima volta, adesso, con quello in rosa. Naturale, quindi, che l'approccio sia e sarà diverso. La differenza sostanziale riside nelle caratteristiche fisiche del soggetto che andrò ad allenare. Sicuramente anche caratteriale, però non nascondo il fatto che comunque ho trovato delle ragazze con un carattere abbastanza importante, su cui si può lavorare tranquillamente. Ma c'è di più. Colagliani, da uomo esperto qual è, sa già come Maria Giovanna Tempesta, Silvia Iacoboni e Claudia Sirna devono lavorare. Ho analizzato in questi giorni già le ragazze, ognuno di loro ha le sue lacune, chiamiamole così, e stilerò un programma ad hoc per ognuna di loro, per abbreviare i tempi. Sicuramente è un lavoro prettamente tecnico. Grazie.